Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose, lei è qui. Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata all'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose, è qui? No, ferma! No, ferma! Non cosa la campana? No, ferma! No, ferma! No, ferma! No, ferma! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. andiamo. Via libera. Presto, presto! Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno! Vieni. Madre! Aiutami! Dobbiamo entrare subito! Salve! C'è nessuno! Forse ha una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Luì chi? È un amico! Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego. Di qua. Non sei di questo villaggio? Eh... No, sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai! Beh... Se Elena si fida... Mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui. Vado a parlare agli altri. Di qua. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi. In tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... Invalido... Stupida... Troia... Lagnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro. Quei poveri stronzi di fuori sono stati squartati. E domani... E domani... Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito. E tappati la bocca, Roxana! Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come voi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... All'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi... Non si sono più fermati e... Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... Da qualche parte... A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo per lui, per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Fortissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempi e eterni, perché ci abbiamo nelle mani del fatto, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Comuniamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, Madre Miranda. Bene. Il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera. L'ho già sentita. Da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. che cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! Padre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Arrè! Ti senti bene? Voi bene scappare! C'est un tipo d'invalorato. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che succede? Basta! Padre Miranda! Ehi! Ma chi... Chi era? La morte, sì... La morte è giunta per tutti loro! Ma chi lo porti al castello? La morte è libera! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.